Al dibattito di Omnibus di questa mattina vi debbo subito un aggiornamento sulla notizia del giorno, cioè su quello che è accaduto nella centrale Enel sul lago di Suviana, perché poco fa il dirigente della comunicazione dei Vigili del Fuoco, Luca Cari, ha dato brutte notizie. Non stiamo lavorando, dice, con molte speranze di trovare vivi i dispersi. Lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea. Così Cari che è l'uomo della comunicazione dei nostri soccorsi, i dispersi sono quattro, lo sapete, poi tre le vittime e cinque i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Naturalmente se ci saranno aggiornamenti su questa tragedia ve li daremo. Noi oggi invece tratteremo in due parti i nostri argomenti, subito la politica internazionale e poi ci rivolgeremo invece al DEF e alla politica interna. Vi presento gli ospiti di questa prima parte. Buongiorno al professor Claudio Martinelli dell'Università Milano Labbicocca. Benvenuto professore. Con il suo libro dedicato al Parlamento europeo lo possiamo vedere. Ecco, simbolo o motore dell'Unione? Buona domanda, anche perché dovremmo essere in un momento di riforme, o così se ne parla da tanto tempo, ma servono. Buongiorno a Dario Fabri. Ciao Dario, il direttore di Domino. Buongiorno. Bentornato con il numero che sta preparando e che dovrebbe arrivare quando? Martedì? Martedì prossimo, sì. È un numero dedicato al momento degli Stati Uniti. Esatto. Gotico americano, la depressione divide gli americani, coste contro entroterra, contro entroterra, tempesta che produrrà il nostro futuro. Speriamo non sia troppo tempestosa quello che ci aspetta. E poi Nicole Flamini, Nicole Flamini del Foglio. Buongiorno anche a te, Nicole. Buongiorno, buongiorno, grazie. Senti, parto proprio da te e partiamo dal Medio Oriente, perché Biden nella serata ha detto di non condividere quello che Netanyahu sta facendo e confermando che sarebbe indispensabile arrivare a un cessate il fuoco. Il pressing è enorme, ma Israele continua a ripetere che l'azione di terra, la seconda, quella su Rafa, potrebbe farsi nelle prossime ore. Perché è tutto bloccato? Stanno anche loro aspettando Trump o Biden a novembre? È bloccato perché c'è stata un'ultima proposta, tra l'altro fatta dal direttore della CIA, Barnes, sulla possibilità di un accordo che riguarda, come sempre, il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi che sono ancora nella striscia di Gaza e la scarcerazione di alcuni dei prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliani. Ieri sera ha parlato anche il segretario di Stato Anthony Blinken che ha detto che per il momento Israele, i negoziatori israeliani che sono stati al Cairo, poi sono andati a riferire al governo come stanno andando le trattative, hanno accettato quella proposta. Hanno accettato anche di aumentare il numero di prigionieri palestinesi da scarcerare. Blinken ha detto chiaramente che in questo momento la palla è nel campo di Hamas e che deve accettare questo accordo. Questa è la parte, diciamo, il terreno negoziale che ovviamente è complesso, è difficile. C'è stata un'accelerazione ultimamente, soprattutto dopo l'ultima telefonata tra Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Dall'altra parte c'è tutta la questione politica israeliana che è ugualmente complicata. C'è l'accusa a Netanyahu di rimanere attaccato a questa guerra per sostanzialmente rimanere nella sua posizione, rimanere premier, anche impregionato a quelle che sono le richieste della parte più estremista del suo governo. In questo momento in realtà chi sta prendendo le decisioni non sono i leader dei partiti più estremisti con cui nel 2022 Netanyahu ha formato il suo attuale governo, ma è più che altro il gabinetto di guerra, il cosiddetto governo di emergenza, è il ministro della difesa, che è lo stesso ministro della difesa lunedì ha detto che questo è il momento decisivo e opportuno per arrivare ad un accordo. Dario, dopo sei mesi, sei mesi e un paio di giorni ormai, abbiamo smesso totalmente di parlare della prospettiva politica che era stato il grande tema dei primi giorni della guerra a Gaza, della prospettiva politica per il dopo. A questo punto è tutto così parcellizzato, così difficile da ipotizzare che non c'è niente che si può mettere a dimora già ora per il domani? Probabilmente no, se quello che intendiamo è la questione strettamente israelo-palestinese è evidente che non c'è nessun piano, non dico di lungo periodo, ma neanche di breve o tanto meno di medio periodo. La questione più larga è quella medio orientale e anche su questo si concentra spesso il dibattito tra il governo israeliano e gli americani. Peraltro il governo israeliano è uno dei pochissimi casi, se non forse l'unica al mondo, che parla alla pari con gli apparati statunitensi, non per una questione sentimentale, ma perché tutti o quasi, storicamente tutti, adesso qualcuno meno, nel governo israeliano sono stati militari, ufficiali militari e dunque hanno una conoscenza tecnica delle questioni, questo non è banale, mediamente i governi politici fanno un altro mestiere, non si intendono tecnicamente delle vicende, devono essere accompagnati dai capo di Stato maggiore, questo avviene anche in Israele, ma poi i ministri parlano perché hanno contezza delle cose e cosa discutono con gli americani? A noi non della questione israelo-palestinese in senso stretto, che non ha nessuna proposta, non dico di risoluzione, sarebbe anche ridicolo usare questo sostantivo, ma anche vagamente di un abbozzo per un modus vivendi che ci conduca altrove, ciò di cui si discute, dicevo, è lo scenario più largo in Medio Oriente, cioè la sproporzione netta, evidente, della reazione israeliana a Gaza, non è soltanto dovuta all'incontinenza emotiva di un popolo che ha subito ciò che noi da qui non riusciamo a comprendere il 7 ottobre scorso, ma al centro ci sono gli accordi di Abramo, che sono formalmente il mutuo riconoscimento da parte delle principali monarchie del Golfo di Israele, c'è uno scambio di legazioni e di rapporti, stava per firmare anche l'Arabia Saudita, ha firmato già il Bahrain e gli Emirati, che si regge su cosa? È anche un tentativo di contenere l'Iran, non è soltanto un momento ecumenico di riconoscimento tra arabi e israeliani, ma è un modo per contenere l'Iran che è il nemico comune di questi soggetti. Israele dice agli americani, se noi non ripristiniamo la deterrenza, visto che siamo stati militarmente umiliati il 7 ottobre, questi accordi che si basano su che cosa? Sullo strapotere militare israeliano, cioè i sauditi, che ancora dovevano firmare, ma va bene, il Bahrain, gli Emiratini, si mettono sotto la gonna di Israele e si fanno proteggere da Israele, che asterisco è l'unica potenza nucleare della regione, non ce n'è un'altra, e dunque Israele dice agli americani, se noi non ripristiniamo la deterrenza, tradotto in termini più crudi e mangiabili, se non torniamo a far paura ai nostri vicini, cioè che ci pensano dieci volte prima di attaccarci, quegli accordi di Abramo che tanto gli americani hanno voluto per andarsene, per essere molto chiari, dal Medio Oriente, vengono meno. Questo gli americani lo capiscono, chiudo, ciò che chiedono a Israele è di poter a questo punto immaginare anche un dopo, esattamente quello che dicevi tu, sì fin qui ci siamo arrivati, ma tecnicamente l'operazione è un fallimento a Gaza, dovrebbe esserlo sul piano emotivo un successo, ma neanche quello, allora gli americani sostengono, va bene, abbiamo capito, ma a questo punto è talmente controproducente il proseguimento dell'iniziativa che forse è meglio fermarsi, ma lo dicono ormai da mesi. Professor Martinelli, il Medio Oriente e la guerra di Gaza dà un'idea abbastanza plastica dell'impotenza europea, dove, perché su questo caso si marcia un po' in ordine sparso, mentre sull'Ucraina poi alla fine la posizione è abbastanza chiara, deliberata. Per il Medio Oriente invece ogni paese ha la sua vecchia politica che continua a perseguire. È ben vero che la nuova legislatura dovrebbe essere una legislatura dedicata alla difesa europea, ma anche a una politica estera che, così come è concepita con l'alto rappresentante, è debolissima in questo momento. Sì, questa dovrebbe essere la prospettiva della prossima legislatura, ma l'attualità ci dice tutt'altro, ci dice appunto che in particolare sulla questione medio orientale sono venute fuori impostazioni nazionali, alcune molto risalenti nel tempo, in cui si vedono i differenti approcci tra gli Stati europei rispetto in generale alla questione medio orientale e in particolare rispetto al problema. Ieri Macron è intervenuto con forza, ma si marcia, ripeto, sparsi. La Francia fa la sua politica, la Spagna fa la sua politica. Non abbiamo assolutamente una voce comune se non quella di dire che siamo tutti attoniti per la catastrofe umanitaria che si sta verificando. E neanche tutti d'accordo su quanto Israele deve reagire nei confronti di Hamas. Esattamente, ci sono anche paesi europei che hanno appoggiato la questione sollevata dal Sudafrica sul genocidio, quindi davvero da questo punto di vista non potremmo essere più divisi. In prospettiva, la cosa che si può sperare, forse, è che anche da questa crisi emerga una volontà di superare questa situazione, perché che cosa comporta avere tante voci diverse? Comporta che l'Unione Europea non è un protagonista sullo scacchiere internazionale. Il famoso nanopolitico. A proposito di geopolitica, Dario, ieri c'è stato questo incontro fra Lavrov e Xi Jinping, un incontro un po' fuori dal protocollo, perché generalmente il presidente cinese vede i suoi pari grado, mentre Lavrov è un ministro degli esteri. È un segnale forte dell'asse Pechino-Mosca o come dobbiamo leggerlo? È un segnale del fatto che a Pechino è chiaro il momento che stanno vivendo gli americani. Traduco. Nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con qualsiasi presidente, chiunque vincerà, gli Stati Uniti proveranno a parlare con i russi per staccarli dai cinesi. È il loro proposito principale. Poi, intendiamoci, non hanno idea di come fare, cioè come congelare la guerra in Ucraina, su quali linee, come spiegarlo, con quale narrazione. Il poeta diceva che ogni infallimento ha bisogno della sua clac, quindi la narrazione, il marketing è decisivo e non sanno esattamente come imbastirlo e la narrazione pertiene al Presidente. Poi, la politica estera concretamente no, non ha di solito questi poteri, il Presidente degli Stati Uniti d'America, ma la narrazione sì. Con chiunque, con Biden o con Trump, parleranno, almeno proveranno a parlare con i russi, proprio per staccarli dai cinesi. Quindi noi assisteremo nei prossimi mesi a tentativi... Bloccato? Bloccato. Se non lo recuperiamo, Mikol, vengo da te, perché aspettiamo Dario per che termini la sua... Ecco, forse c'è di nuovo. Ecco, sì, sì, ti abbiamo di nuovo. Vai. Scusate, dicevo, quindi assisteremo nei prossimi mesi a tentativi cinesi di ulteriore abbraccio alla Russia, perché questa, che è una, come dire, una sensazione degli apparati americani che è stata, ad esempio, già segnalata ai soci europei, infatti vediamo le reazioni sparse anche in questo caso sull'Ucraina, c'è Scholz che si diverte a segnalare che secondo i servizi tedeschi sono stati gli inglesi a boicottare Nord Stream, questo significa quando avverte che gli inglesi sono in Ucraina per fare loro un dispetto, i polacchi che temono fortemente ogni iniziativa francese in Ucraina, la Francia che invece vorrebbe intestarsi... Comari litigiosa. Sì, proprio perché gli americani hanno segnalato nel retropalco attraverso i loro apparati, che rimangono, i presidenti americani già hanno quasi nessun potere, poi se ne vanno spesso e volentieri dopo quattro, massimo otto anni, hanno segnalato che parlare con la Russia per loro è decisivo. Quindi assisteremo in questi prossimi mesi a tentativi cinesi di ulteriore abbraccio alla Russia, come a dire, attenzione, non evitate aperture eventuali, che ripeto, per il momento sono solo nella mente della divinità, non ci sono attualmente, ma sono un proposito grammatico per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non possono tollerare a livello di simmetria o asimmetria che i cinesi e i russi, che per l'altro non sono amici, che sono imperi che mediamente si detestano, vadano insieme perché hanno il nemico comune degli Stati Uniti e quindi vorranno fortemente parlare con la Russia nei prossimi mesi, chissà nei prossimi anni, allora assisteremo ad altri vertici di questo tipo, anche come tu dicevi giustamente rompendo il protocollo, perché Xi Jinping non dovrebbe interloquire, peraltro, in maniera così affettuosa con un ministro di un'altra amministrazione. Eppure anche questo è capitato. Mikol, arrivano continuamente le richieste pressanti di Zelensky per queste armi che mancano, però si comincia a guardare già a questa conferenza svizzera dove, salvo la Russia, ci saranno un po' tutti. Che cosa potrebbe uscire da lì? Perché il pendolo militare oscilla sempre più dalla parte di Mosca e Zelensky senza quelle armi occidentali, dico occidentali perché potrebbero essere Nato e non direttamente americane, ha i mesi contati, possiamo dire così? C'è sicuramente una proposta da parte della Nato di cercare un'iniziativa che coinvolga l'alleanza e non i singoli stati membri. Abbiamo visto mesi fa, a febbraio, quello che vuol dire il rallentamento del sostegno della solidarietà occidentale all'Ucraina, l'abbiamo visto con la battaglia di Avdivka, con il mordicchiare dell'esercito russo lungo tutto il fronte, nonostante le enormi perdite di soldati da parte della Russia. Ci sono state le elezioni in Russia con le conseguenti voci continue della possibilità di una mobilitazione, il tentativo costante del Cremlino di voler allegare l'attentato del 22 marzo a questa sala concerti al Crocus a Mosca che è stato rivendicato dallo Stato Islamico, tra l'altro rivendicato più e più volte dallo Stato Islamico. In tutti i modi, esatto. In tutti i modi lo Stato Islamico ha cercato di dire, ha detto che quella era sua responsabilità e gli ucraini non cercavano, non c'entravano nulla. Eppure il Cremlino, abbiamo visto anche questa settimana, per precisione l'FSB, i servizi di sicurezza, hanno di nuovo pubblicato dei video con delle confessioni sotto tortura da parte di questi terroristi arrestati che parlavano di contatti con Kiev. Anche questo fa capire che la Russia non ha nessuna intenzione di fermare la sua invasione in Ucraina, anzi ha intenzione di creare un sensazionalismo maggiore e di utilizzarlo anche all'interno della Russia, quindi per mobilitare ancora di più i russi prima di indire, di dichiarare una mobilitazione diciamo dall'alto. Dall'altra parte c'è l'Ucraina con Zelensky che per la prima volta ha detto senza queste armi non andiamo da nessuna parte, non stiamo più parlando soltanto degli F-16 per la difesa aerea. La richiesta è diversa, è più grande, parla appunto di tutto un arsenale che in questi mesi è venuto a mancare. Le divisioni sono tante anche appunto a livello europeo, il modo in cui i paesi dell'Europa orientale vedono questa guerra è un'eventuale sconfitta da parte dell'Ucraina e per sconfitta alcuni ritengono anche il fatto che la Russia si tenga questo 20% del territorio che ha occupato fino a questo momento. ha visto questo come una grande minaccia alla sicurezza dell'Alleanza Atlantica e alla sicurezza dell'Unione Europea. Difficile pensare che questa conferenza possa ora come ora cambiare le cose o portare di fatto a una tregua o a una pace. Professor Martinelli, le elezioni europee, due mesi, proprio oggi, possono cambiare qualche cosa negli scenari delle due guerre per gli assetti che ne potrebbero uscire? Allora, devo dire, nell'immediato, secondo me, molto relativamente, perché mi sembra che i binari su cui questa partita si stia giocando sono quelli che stavate analizzando voi e per molti aspetti travalicano anche gli equilibri interni del Parlamento Europeo. Però un po' sì e certamente sì in prospettiva. Cioè, se le elezioni europee dovessero avere dei risultati diciamo favorevoli ad una prospettiva sempre più federalista anche dal punto di vista della difesa comune... Però ne parliamo da decine di anni. secondo me in questo momento non è questo il focus. Cioè, la questione ucraina secondo me si gioca... Ma la difesa è premessa di un federalismo politico? La difesa comune? Il federalismo politico è premessa di una difesa comune. O all'opposto? O all'opposto? Perché? No, ma perché io penso che la difesa è un fatto politico ed è intrecciata la politica estera. Allora, o decidiamo che difesa e politica estera sono comuni, ma lo possiamo decidere solo in una prospettiva federale. Altrimenti non ne usciamo. Cioè, lei dice è impossibile partire da qui, bisogna partire dall'altra parte. Però l'Europa sta partendo proprio da cercare di rafforzare difesa e politica estera. Sì, ma lo sta facendo nei termini che le sono consentiti in questo momento. Cioè, la creazione di strutture, di un imbrione di esercito. Ma non è questo il salto di qualità. Cioè, il salto di qualità avverrà solo dopo. Ci credi, Dario, che sia possibile in questi anni? No, sinceramente no. Quello che stavo detto è vero. È chiaro che la questione è politica, ma i popoli esistono. Il popolo europeo no, ma i popoli europei sì ed hanno visioni molto diverse di sé. I popoli sono sentimento. non è mai nata una nazione per decisione a tavolino. Per cui, io non l'ho mai vista, perlomeno. Di solito, peraltro, le nazioni nascono ai noi sempre da una forma di violenza. Speriamo di non vederla in Europa. Potrebbe essere l'unico caso quasi della storia in cui questo non avviene. Sinceramente non credo che sia davanti alle nostre vite. Sarebbe certamente un proposito da accogliere con favore, ma credo che non sia alle viste. Mettiamola in questa maniera perché i sentimenti e le sensibilità dei popoli europei sono molto diversi. Io non li ho mai visti convergere su questioni di vita o di morte. Su questioni utilitaristiche sì. La politica commerciale, vagamente quella energetica. Quando si tratta di questioni di vita di morte la minaccia di un'aggressione però è utilitarismo puro. La minaccia di fronte rispondere a una minaccia di aggressione. Sì, ma la difesa dei paesi europei pertiene agli americani. Per ora. L'Europa è un quartiere è la perla degli liberi americani. No, gli americani non te lo farebbero neanche fare. Cioè non è se vogliamo fare come è stato detto un embrione cioè brigade europee che hanno il ruolo simile a quello dei caschi blu cioè che arrivano dove la guerra già non c'è più perché altrimenti non hanno capacità di condurla questo si può fare altrimenti spiegare agli americani ma ripeto lasciando stare gli americani che già non te lo farebbero fare mai ma al di là di questo spiegare ad esempio chi comanda un esercito europeo per noi che vediamo più o meno le cose dalle nostre camerette e l'Italia è un paese molto peculiare da questo punto di vista può essere anche chiunque ma un polacco dice che un generale francese comanda i miei militari per i francesi è semplicissimo l'esercito europeo lo pagano i tedeschi e lo comandano loro ma i polacchi i baltici ti dicono subito di no ma gli stessi tedeschi ti dicono di no cioè i popoli sono cose serie esistono per davvero è un bel dibattito da fare questo io ringrazio Dario Fabri e Micol Flammini dandovi l'ultima notizia di politica estera perché la conferma che arriva addirittura da Camenei della risposta che arriverà contro Israele Israele ha commesso un errore e ne pagherà le conseguenze ci fermiamo un istante eccoci le 8 e 28 io vi do subito intanto un ulteriore aggiornamento sempre per la tragedia della centrale Enel allora Luca Cari il dirigente della comunicazione dei Vigili del Fuoco vi avevo detto che non sembrava ottimista spiega che la situazione è molto difficile che l'acqua sta salendo e che i Vigili stanno lavorando al di sotto del livello del lago e l'acqua continua a entrare ce ne sono 40 centimetri al piano meno 8 dove stanno lavorando con le squadre di ricerca questa dice Cari è una situazione molto difficile una situazione di rischio e di pericolo anche per i nostri operatori che fa capire quanto sono difficili in questo momento le operazioni di soccorso è arrivato Giuseppe Alberto Falci del Corriere della Sera ciao Giuseppe vedo il professor Gianfranco Pasquino con il suo inseparabile Tucano professore merito di scienza della politica buongiorno professore bentornato buongiorno culotta grazie dell'invito e poi c'è qui alla mia destra Janina Landau di Classi NBC ciao Janina bentornata parto da te perché dobbiamo parlare di DEF rassicurazioni di Giorgetti a parte i numeri di questo documento definito leggero dal governo in accordo con l'Europa diciamo che questo è relativamente marginale alla fine non sono così belli perché una crescita all'1% il deficit sempre alto al 4,3 il debito che è al 137,8 ma che salirà fino a sfiorare il 140 non è un quadro rassicurante allora sicuramente finora abbiamo sempre parlato di un DEF chiaroscuro che light secondo me è monco monco nel punto di vista che non ci sono tanto per essere chiari tanto per essere chiari perché mancano tutte quelle che è poi la visione del futuro cioè questo è fatto un quadro di quello che è il tendenziale sicuramente ci sono elementi la parola chiave che non si è sentita e giustamente l'hai sottolineata tu è il tema della crescita manca la crescita una crescita che non c'è ma non c'è quest'anno ma non c'è solo fino al 2026 questo non è stato ancora sottolineato il termine in cui si stava in scadenza il PNRR e quindi si capisce che questo PNRR che doveva essere fino a poco tempo fa la panacea di tutti i mali tutta questa spinta verso la crescita non ce l'ha quindi quello secondo me è uno degli elementi più importanti sul quale riflettere quindi attenzione perché i ritardi ci stanno e evidentemente sono più forti di quanto non si immagini un altro elemento quello del debito il debito rimane comunque alto non altissimo nel senso che cresce rispetto un poco rispetto alle ultime previsioni comunque è quello monster che abbiamo su questo punto non è ben chiaro e forse anche ieri forse era l'occasione un po' per chiarirlo quale potevano essere le politiche per abbattere il famoso tagliadebito si è parlato poco e nulla di spending review perché poi alla fine ha detto ci saranno dei tagli di spesa è uno dei miti della politica italiana ma siamo sotto elezioni quindi è difficile poi capire dove andare a intervenire e un altro tema secondo me forse l'unica notizia positiva che è emersa ieri della conferenza stampa è il fatto che non sembrano esserci ulteriori manovre di aggiustamento correttive aspettando naturalmente il nuovo patto di stabilità la definizione perché noi sicuramente qualcosa dovremmo fare perché siamo oltre tutti i limiti 4 e 3 siamo fuori con l'accuso quello lo sapevamo quindi l'abbiamo detto e quindi bisognerà capire con quali tempistiche di rientro sulla base di quello fare come si dice le giuste accorgimenti a parte del governo comunque insomma come dicevi tu sicuramente un quadro molto molto importante e nonostante questo ottimismo io aspetto veramente con ansia a vedere come risponderanno le agenzie di rating la prima è il 19 di aprile l'altra sarà a maggio vediamo come rispondono anche i mercati vediamo anche come adesso aprirà la borsa insomma secondo me era un po' prevedisto e quindi può darsi pure che i mercati abbiano già scontato certo Giuseppe uno che se ne intende come Lorenzo Binismaghi che è stato nell'esecutivo della BCE quindi un banchiere centrale diciamo un professionista dell'attenzione alle cose che dicevamo ai mercati e ha un po' preoccupato dice a Repubblica crescita irrealistica si rischiano tagli di spesa la situazione del debito è delicata l'inversione dovrebbe avvenire nel 2027 che anno è elettorale quindi dice lui ma nell'anno elettorale pensate di fare l'inversione cioè spendere di meno sarà l'anno temo in cui diciamo qualche provvedimento un po' più di aiuto e di simpatia nei confronti degli elettori ci sarà però il governo aveva bisogno di farla subito e di farla in una maniera che fosse europea consentita quindi da Bruxelles ma anche intelligente e lo ha fatto non a caso e sono stati diciamo confermati quelle che sono state alcune misure chiave di questo governo penso al taglio del cuneo fiscale che di fatto è stato confermato seppur rispettando i termini del debito dopodiché Edgardo tutto questo tutti questi discorsi che stiamo facendo questa mattina si dovranno fare quando sarà definito il quadro del nuovo patto di stabilità non a caso sempre in quell'intervista dice una cosa da non sottovalutare il ministro ieri Giorgetti non ha fatto alcun riferimento alla traiettoria del debito che sarà il parametro chiave del nuovo patto di stabilità questo cosa significa che quando si scriveranno le regole del nuovo patto di stabilità si dovranno rivedere tutti i numeri che ieri sono stati più o meno indicati è chiaro che su quello che succede sul passaggio di ieri è stato determinante è determinante il passaggio elettorale che ci sarà da qui a 60 giorni ed è stato determinante altresì anche in chiave diciamo di mercati di quello che si potrà sviluppare strizzare in un certo qual modo l'occhio all'Europa sempre sempre lei sempre lei appunto dunque è tutto prematura è stato un modo furbo per restare a galla diciamo restare a galla a proposito professor Pasquino allora Claudio Cerasa il direttore del foglio sintetizza tacitianamente un po' tutto sotto un titolo l'agenda che non c'è c'è il suo editoriale di oggi il def è lunare scrive ma l'opposizione parla da Marte tanto per dare idea di come sia con i piedi per terra questo dibattito e sull'economia si continua a dribblare la realtà che non è un buon approccio diciamo anche nei confronti dei cittadini perché se questa è la politica Marte Luna circa 40 anni fa quando facevo l'indipendente di sinistra eravamo riusciti insieme con il senatore Cavazzuti a convincere il partito comunista a fare una finanziaria alternativa cioè a trovare alcuni punti sui quali essere molto precisi dicendo che cosa si poteva fare rispetto a quello che il governo suggeriva io mi aspetterei dall'opposizione che operasse in questo modo cioè che dicesse che cosa non va nella finanziaria nel def del governo e che cosa si può fare di alternativo se lo chiede a me io penso che il problema vero del paese continua a essere quello di crescere perché se cresce quasi tutti gli altri problemi possono essere risolti con una crescita all'1% che mi pare già abbastanza ottimista non si va da nessuna parte per crescere bisogna sapere investire nei settori come si dice strategici quelli che producono crescita non solo tanto alta crescita ma crescita rapida perché un conto è avere investimenti che producono delle conseguenze positive fra dieci anni un conto investimenti che ne producono nei prossimi due o tre anni tutto questo però è un compito dedicatissimo io capisco il ministro Giorgetti credo che tutto sommato sia stato responsabile poi ci sono dei limiti oltre i quali non può andare però mi aspetterei dall'opposizione una qualche cosa di più come dire più efficace sia nella critica che nella proposta altrimenti se si limita a prendere atto di quello che c'è e a dire che bisogna ad esempio investire nella sanità certamente sì però bisogna anche sapere che quegli investimenti sono investimenti importanti per noi cittadini ma che non è che produrranno delle conseguenze di volano in termini di crescita e quindi affido tutto questo ad alcuni degli economisti che stanno nelle file del Partito Democratico e forse a qualcuno che può essere raggiunto perché questo è il compito fondamentale di un'opposizione essere effettivamente alternativi io vengo subito dal professor Martinelli ma prima vi debbo leggere un'agenzia che per certi versi dà idea di una drammatizzazione ulteriore del conflitto in Medio Oriente poco fa vi avevo detto che Kamenei aveva minacciato Israele ha commesso un errore e la pagherà è arrivata a strettissimo giro la replica del ministro degli esteri proprio di Tel Aviv Se l'Iran attacca dal suo territorio Israele reagirà e attaccherà in Iran questa è la risposta pubblicata su X proprio dopo le parole di Kamenei quindi diciamo che la situazione è a un millimetro dall'esplosione in Medio Oriente Professor Martinelli torno a lei e al suo Parlamento Europeo con un refrain che ci perseguita da sempre ce lo chiede l'Europa ma che cosa ci chiede l'Europa perché è la scusa dietro la quale ci nascondiamo per fare o non fare alcune cose e comunque è come un'entità malevola o benevola a seconda di chi cita o non cita per fare o non fare le cose ce lo chiede l'Europa l'Europa non vuole eccetera cosa non vuole che cosa ci chiede cerchiamo se ci chiede qualcosa nel libro mi sono permesso di scrivere che quella frase è proprio la sconfitta degli europeisti perché dà l'impressione che ci sia un'entità esterna di cui noi non facciamo parte che ci chieda e naturalmente dietro quel chiedere ci imponga qualcosa concettualmente ed è stato un errore degli europeisti una matrigna sei una matrigna accettare questa narrazione è stato un grave errore se posso dire una cosa sul DEF perché viene secondo me a proposito io ho l'impressione che tutta la situazione in questo momento sia in un grande stand by cioè in una situazione di stallo il DEF era un atto dovuto del vecchio ciclo di bilancio che sta andando a morire con le nuove regole e quindi cosa hanno fatto hanno sostanzialmente fatto un copia e incolla della NADEF precedente cioè di quella di settembre diminuendo la crescita da 1,2 a 1 peggiorando ovviamente nel frattempo è successo qualcosa purtroppo però è appunto un atto dovuto che aveva questa funzione cioè quasi di non servire a nulla in attesa di che cosa in attesa delle cose importantissime che accadranno non soltanto le elezioni europee comunque lo spread è stabile per il poco che può valere appunto un'altra cosa in stand by in qualche modo cioè le elezioni poi l'ha detto lo stesso Giorgetti si verrà aperta una procedura di infrazione perché ovviamente è un dato numerico e poi entrerà il prossimo ciclo di bilancio e allora a un certo punto dovranno essere fatte delle scelte anche e soprattutto per quello che diceva il professor Pasquino cioè provare a capire come dal punto di vista normativo si può incidere per favorire la crescita per favorire perché non è che con i decreti o con le leggi si fa la crescita però per favorirla un'altra cosa che si sta aspettando di capire mi sembra è a un certo punto quando andrà a regime il costo del super bonus perché a ogni documento che salta fuori c'è un costo maggiore ieri siamo arrivati a 210 miliardi come se le fatture arrivassero giorno per giorno e c'è uno che le somme con la macchinetta quando entri in un loop del genere cioè a un certo punto è chiusa è chiusa all'inizio di aprile dovrebbe essere stato tutto chiuso definitivamente speriamo che sia stato calcolato tutto e che quindi ci sia una cifra enorme che in qualche modo coincide con quella del PNRR e quindi anche a somma zero in qualche modo a somma zero e anche appunto gli effetti del PNRR sulla crescita io spero che ce ne siano a lungo termine perché per il momento non ne abbiamo visti questo dipenderà da quanto entro il 2026 riusciremo a implementare ma sarà anche un banco di prova se l'abbiamo fatto bene questo PNRR perché a quel punto sapremo se l'abbiamo disperso in mille rivoli inutili dal punto di vista magari utilissimi per alcune cose specifiche ma inutili dal punto di vista della crescita dei grandi aggregati numerici è giusto Janina proprio da te volevo venire proprio sul PNRR ma non si vede niente cioè che qual è l'arco di tempo in cui delle misure enormi perché sono 200 miliardi cominceranno è un volano naturalmente teoricamente le prime proiezioni già nel 25 e 26 già si doveva anche sulla base dei numeri insomma come se io faccio inizio la costruzione di una casa e mi chiedono quando finisce quando potrò entrarci è un po' questo il parametro noi sappiamo che ho iniziato i lavori nella casa non so quando ci entrerò e poi come ci entrerò e quali benefici mi porterà questa nuova casa questo che ancora manca manca al terra però se mi volevo un attimo ricollare quanto detto dal professore l'Europa matrigna peccato che quando ci fa comodo siamo tutti nella stessa barca ieri il ministro Giorgetti ha detto però non siamo il soli in questa situazione quindi quando fa comodo l'Europa siamo tutti fratelli siamo tutti uniti nella stessa situazione quando c'è qualcuno che scatta in avanti e fa le cose migliori insomma loro contro noi forse su questo dovremmo un attimo rivedere un dato positivo che poi è stato anche sottolineato che comincia ricomincia ad andare quella che era la locomotiva che adesso non è più la locomotiva e la Germania è quello anche per quanto riguarda la crescita quello forse potrebbe essere uno degli strumenti di crescita perché molto delle nostre aziende si basano tutta la parte manufatturiera italiana si appoggia molto alla Germania quello potrebbe essere forse qualcosa che esula dai nostri conti dalle nostre previsioni guardare la Germania come un piccola boccata di ossigeno per la nostra crescita professor Pasquino noi e l'Europa tanto per rimanere con i piedi su questo problema è sempre un rapporto contraddittorio anche in Italia siamo stati i più europeisti che c'erano nel continente ma di decine di punti poi improvvisamente siamo diventati tra i meno europeisti adesso dopo il covid e dopo il PNRR diciamo il conto comincia a essere di nuovo positivo matrigna o no? ma alzitutto c'è il problema del soggetto siamo stati chi? siamo stati noi cittadini o i governanti? e non lo siamo più noi cittadini o i governanti? il problema è che se vuole le rispondo però se vuole le rispondo io però credo che sia più importante la sua di opinione no no io ascolto volentieri anche quello che dice lei naturalmente dica 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 lei perché chiaramente i governanti sono stati molto a lungo perché era un modo per rimanere attaccati agli altri europei e anche per tenere la democrazia italiana il quadro democratico poi hanno cominciato ad avere delle riserve credo che si possa dire che Berlusconi è quello che ha avuto maggiori riserve nei confronti dell'Europa e a questo punto ha influenzato parte consistente dell'opinione pubblica oggi siamo sul crinale 50% che dicono che l'Europa è un bene per l'Italia 50% che sono critici nei confronti dell'Europa il secondo punto rilevante però è che bisognerebbe sottolineare una cosa precisa che non è che c'è l'Europa e ci siamo noi noi siamo nell'Europa e quindi non è che quando diciamo l'Europa ci impone e allora che cosa abbiamo fatto che cosa ha fatto il nostro rappresentante in Europa che cosa hanno fatto i nostri ambasciatori che cosa hanno fatto i nostri governanti cioè che l'Europa in questo caso siamo noi che non siamo riusciti a essere convincenti che non avevamo proposte adeguate che non sapevamo come reagire rispetto a proposte fatte da altri che non sappiamo entrare nei circoli che contano lo dirò così con questa frase un po' cospiratoria cioè che non sappiamo tenere dei buoni rapporti con Macron e i tedeschi che sono quelli che alla fine contano anche se non vorrei esagerare il loro contare vedo due posizioni molto brutte una posizione che dice questo non lo possiamo fare perché l'Europa non ce lo consente cioè l'alibi e questo dobbiamo farlo perché non faremmo perché noi siamo molto più bravi perché l'Europa ce lo impone il capo respiatorio sono entrambe posizioni sbagliate bisogna sapere sapere dire agli italiani da parte dei governanti che cosa che cosa davvero vogliamo fare di questo paese dentro l'Europa sapendo che fuori dell'Europa non possiamo fare niente l'europeismo è dire siamo in Europa e cerchiamo di starci nella maniera migliore possibile che per contribuire alla crescita dell'Europa perché la crescita dell'Europa produce la crescita anche dell'Italia Giuseppe faccio notare che gli ultimi governi i due di Giuseppe Conte interrompiamo con Draghi perché Draghi è stato presidente della BCE e quindi lo teniamo fuori da questa partita e Giorgia Meloni partivano da presupposti come dire di attacco frontale all'Europa e poi Conte ha firmato il PNRR con 200 miliardi che arrivano all'Italia e Giorgia Meloni si vede mattina e sera con Ursula von der Leyen presidente della Commissione Europea quanto cambia trovarsi nella stanza dei bottoni posto per dirla con Nenni che ce ne sia una a Palazzo Chigi nel rapporto appunto con l'Europa e con i tanto per rimanere alle immagini del professor Pasquini i poteri forti io distinguerei perché i due governi Conte sono due governi diametralmente diversi perché nel primo però Conte è lo stesso Conte è lo stesso Conte è più sfrontato Conte fa quasi l'anti-UE perché ha come compagno di banco Matteo Salvino e Di Maio e Di Maio nel secondo governo Conte invece si europeizza grazie anche al Partito Democratico che è sempre stato ancorato nelle posizioni super europeiste quanto tu dici fa il certo è fisiologico Giorgia Meloni era arrivata no euro ce la ricordiamo poi naturalmente c'è un sano pragmatismo e quando sei a Palazzo Ghigi fai politica ti scontri con la realtà fai politica fai politica Giorgia Meloni muta diciamo le sue posizioni in virtù del fatto intanto Giorgia Meloni aderisce a un gruppo che è differente da quello in Europa che è differente da quello di Matteo Salvini che è il gruppo più sfrontatamente anti-UE il gruppo dei conservatori è un gruppo cuscinetto che sta che sta a metà tra i sovranisti e i popolari e di fatto sembra quasi traghettare verso i popolari alla luce delle posizioni dell'ultimo anno e mezzo Giorgia Meloni anche in virtù dell'esperienza che ha avuto nelle istituzioni perché è stato anche ministro in tempi non una quindicina di anni fa in occasione dell'ultimo governo Berlusconi delle politiche giovanili delle politiche giovanili si istituzionalizza ma è giusto che sia così è fisiologico è normale l'abito fa il monaco no c'è un altro esempio che è molto singolare che è quello di Lorenzo Fontana Lorenzo Fontana prima di diventare Presidente della Camera eravamo tutti preoccupati dal fatto che Lorenzo Fontana diventasse Presidente della Camera è il più istituzionale che c'è è il più istituzionale che c'è oggi rispetto a è più discolo la Russia è più discolo la Russia da cui invece ci aspettavamo una postura più istituzionale sì è vero quello che dici tu ed è vero anche però che questo governo si trova in una situazione diciamo più che anomala perché tu hai noi abbiamo tre forze politiche tre forze politiche che appartengono a tre famiglie differenti e questo ovviamente peserà all'indomani delle elezioni europee avrà un peso beh Salvo allora detto che Salvini sicuramente non voterà il nuovo presidente a meno che non sia uno suo o uno diciamo che il voto dei popolari è pressoché certo perché per i popolari bisogna passare quindi Tajani voterà sicuramente e Giorgia Meloni è apparecchiata ma va bene questa potrebbe essere vi faccio vedere soltanto una cosa da Repubblica perché sarà nella nostra prossima parte eccolo qui Mossa dei leader europei scrive Claudio Tito subito consultazioni per la commissione la carta Draghi torna a essere lanciato il nome di Draghi ma la vera novità è di qua scrivono Ciriaco e Colombo il piano B di Meloni proporre l'ex premier per brindarsi in Europa su conti e PNRR e qui forse è un po' di fantapolitica ci fermiamo un istante 8 e 57 eccoci e buongiorno a Agnese Pini direttrice del quotidiano nazionale ciao Agnese bentornata ciao buongiorno grazie allora professor Pasquino lei ci crede Mossa dei leader europei lo ripeto subito consultazioni dice Claudio Tito che qualche settimana fa aveva già lanciato l'idea che potesse essere Draghi il nome forte per la commissione europea un nome che può ricomparire ora che Ursula von der Leyen che fino a un paio di mesi fa sembrava certa della riconferma appare un po' in difficoltà con l'altra novità di politica interna il piano B di Meloni dice sempre Repubblica proporre proprio il nostro ex premier e farlo diventare il candidato italiano anche se naturalmente c'è questo rapporto strettissimo fra Meloni e von der Leyen anzitutto ricordo che Draghi aveva detto un lavoro sono in grado di trovarmelo da solo quindi prima bisognerebbe sentire che se quello è il lavoro che gli piace anche perché è un lavoro assolutamente come dire importante un lavoro molto assorbente Draghi non è più un ragazzino e quindi anche quello è un elemento di cui tenere conto secondo però ricordo a tutti che bisogna tenere conto dei numeri perché la presidente della commissione deve essere votata dal Parlamento Europeo e quindi bisogna che ci sia una coalizione che vuole quel tipo di candidatura quello che mi pare oramai quasi accertato è che Ursula von der Leyen ha sciuppato il suo capitale diciamo politico e mi pare in notevole difficoltà già lo era all'interno dei popolari mi pare che sia in difficoltà anche rispetto agli altri quindi si è aperta una partita molto delicata il nome di Draghi purtroppo esce troppo presto e come spesso diciamo i nomi che escono troppo presto si bruciano però certamente sarebbe una persona autorevole non c'è nessun dubbio una persona capace che già conosce molti dei meccanismi di funzionamento dell'Unione Europea altro elemento importante però è che bisogna che sia qualcuno che sa come funziona il Parlamento Europeo magari che ha letto il libro di Martinelli sa come funziona la Commissione sa come funzionano i rapporti con i capi di governo perché anche quelli contano il resto lo affido ovviamente a dibattiti nei quali è utile che non esca un unico nome che ne escano diversi perché bisogna sapere anche confrontare le capacità pregresse e le potenzialità che queste persone hanno io non mi limiterei al nome di Draghi anche perché se ne escono altri possiamo dire che Draghi è preferibile se rimane solo lui diventa il bersaglio di coloro che vogliono un europeismo molto più blando Draghi è un grande convinto europeista vedo delle difficoltà sul fronte dei non europeisti a votarlo anche all'interno dello schieramento di Giorgia Meloni professor Martinelli allora teniamo fuori Draghi da questa che tipo di partita è politicamente quella dell'elezione del presidente dell'elezione della nomina perché poi non c'è un'elezione c'è una nomina vabbè c'è un doppio meccanismo sì però di fatto è una nomina poi ratificata dal Parlamento europeo nomina politica del Consiglio diciamo allora intanto ovviamente ringrazio il professor Pascuito per la citazione che mi fa molto piacere ma è una partita estremamente complessa che non ha molto a che vedere con i meccanismi con cui siamo normalmente abituati a livello nazionale cioè la complessità della scelta del presidente della commissione deriva dalla complessità della struttura dell'Unione europea che è appunto un mix di elementi sovranazionali e elementi di tipo governativo e lo vediamo anche nell'elezione del presidente perché c'è la proposta da parte del Consiglio che ovviamente non viene giù dagli alberi Consiglio europeo cioè i capi di Stato e di governo per far capire a chi ci ascolta perché per noi è tutto evidente ma magari che ovviamente la cui decisione dipende da quello che accadrà in questo periodo e probabilmente anche dopo i risultati elettorali cioè dagli accordi che verranno presi e di cui già si comincia a parlare però poi c'è il passaggio parlamentare cioè il passaggio parlamentare non è più ecco questo è una cosa che è bene ribadire anche per gli ascoltatori cioè il Parlamento europeo non è più quello risalente che era abbastanza negletto rispetto al potere del Consiglio e della Commissione il Parlamento ormai è diventato un protagonista un motore della forma di governo dell'Unione Europea e in Parlamento non ci sono i governi ci sono le famiglie politiche ciascuna poi con i suoi parlamentari da convincere perché devi tenere fuori la maggioranza quindi secondo me io ho questa impressione che il nome verrà fuori ancora una volta da un accordo il più ampio possibile cioè la Govras dell'Unione Europea rifugge dalle dialettiche maggioranza opposizione bisognerà trovare magari avremo anche qualche sorpresa di qualche famiglia politica magari tradizionalmente un po' critica e scettica nei confronti dell'Europa che si sta convincendo della necessità di dotare l'Europa di strumenti forti e vuole esserci e il primo modo per esserci è quello di votare il Presidente della Commissione in un accordo che dovrà essere necessariamente il più ampio possibile anche in relazione alle notizie che stava leggendo prima Volevo fare una piccola decressione tornando al nome di Draghi il primo che tirò fu il nome di Draghi certamente non siamo stati noi Macron questo non è un bel grande elettore un bel grande elettore che ha sempre dato negli ultimi anni le carte quindi sicuramente questo non vuol dire mettere direttamente il cappello oppure ce l'abbiamo come Presidente della Commissione però insomma possiamo capire quale gioco sottile si sta delineando a livello sovranazionale Giuseppe che te ne pare? Tutto possibile è tutto vero è vero tutto il contrario perché mancano due mesi alle elezioni poi comincia la vera partita perché perché ce n'è un'altra di partita è interessante quello che diceva nella conclusione dell'intervento il Professor Martinelli cioè sul fatto che una famiglia che fino ad oggi non ha diciamo non ha pesato nelle dinamiche di indicazione barra elezione del Presidente della Commissione possa avere potrebbe avere un ruolo e lì il partito diciamo chiave potrebbe essere quello la famiglia chiave potrebbe essere quella dei conservatori e quindi Giorgio Meloni e se fosse Giorgio Meloni non si potrebbe escludere lo scenario di cui oggi scrivono i due colleghi di Repubblica cioè è vero che è uscito molto presto il nome di Mario Draghi è vero che se esce presto ovviamente sarebbe chi entra Papa potrebbe uscire cardinale ma è anche vero che tutto e molto dipenderà poi da quale sarà il peso specifico delle varie forze politiche se si dovesse delineare una situazione non dissimile a quella del 2019 nella quale si fu costretti a fare una maggioranza diciamo extra large perché poi lì fu il modello Ursula fu un modello extra large si andò oltre le due famiglie chiave che avevano governato fin lì magari la stessa Meloni potrebbe tirar fuori dal cilindro quel nome lì altrimenti quale quel nome è diciamo alla caratteristica di quel profilo ha la caratteristica di essere diciamo come diceva prima la collega diciamo è stato indicato per la prima volta da Macron è un nome indiscutibile su cui nessuno dopo aver puntato fino adesso sulla Ursula von der Leyen e capire che un cavallo che si sta un po' azzoppando superi sulla destra oltretutto per Meloni potrebbe essere per l'Italia potrebbe essere anche un modo per proteggersi nei due anni successivi prima dell'appuntamento elettorale Agnese fammi aggiungere una cosa sicuramente sia Draghi o qualcun altro qui la scelta che l'Europa deve fare è quale obiettivo perseguire cioè quello di una integrazione che von der Leyen ha visto sul piano militare della difesa perché questa è la sfida dei prossimi anni oppure continuare a essere un'unione per modo di dire a 27 con poi nuovi ingressi in vista l'Ucraina tutti gli altri che comunque marcia in ordine sparso la scelta del prossimo Presidente della Commissione è fondamentale per questo un Presidente forte per fare di più un Presidente meno forte per rimanere come siamo non credi che sia così? Assolutamente sì però ti aggiungo un elemento siamo in una fase in cui la storia corre su un piano inclinato quindi al di là delle intenzioni buone o cattive delle varie forze politiche dei vari partiti che compongono l'arco parlamentare europeo delle maggioranze dei singoli stati quindi al di là delle intenzioni ci sono poi dei fatti che stanno precipitando sempre di più e che costringeranno a un certo punto l'Europa presumibilmente a prendere delle decisioni un po' come è accaduto con il Covid vi ricordate c'è stato qualcosa di simile per molto tempo gli stati hanno provato a ignorare l'emergenza provato a ignorare il fatto che fosse un'emergenza comunitaria e quindi non soltanto legata alle specifiche esigenze delle sovranità nazionali dei singoli stati ma necessitasse un accordo multilaterale tra i vari governi per prendere delle decisioni comuni a questo l'Europa ci è arrivata sull'onda dell'estrema necessità e dell'estrema emergenza non ci sarebbe arrivata altrimenti ed è riuscita a compiere dei passi fondamentali e sostanziali per la sopravvivenza del continente e la sua tenuta economica a fronte del disastro del disastro Covid è inutile stare adesso a elencare tutto quello che è accaduto dal Piede quindi fra i meriti dell'Unione in questi anni in questa legislatura non c'è dubbio il punto qual è che cos'è che si sta decidendo adesso si sta decidendo si sta cercando di capire che piega prenderà la guerra in Ucraina e quanto l'interventismo militare a questo punto anche europeo più o meno svincolato dalla Nato e su questo gioca inevitabilmente un fattore molto pesante l'altra delicatissima elezione del 2024 che è quella negli Stati Uniti quindi l'interventismo che eventualmente l'Europa potrebbe essere costretta ad avere in Ucraina al netto del sostegno dell'invio di armi del sostegno economico delle pensioni eccetera eccetera io ovviamente c'è un'enorme consapevolezza di questa situazione estremamente delicata dei rischi a cui si va incontro e delle decisioni che forse saremo costretti a prendere quindi al di là delle intenzioni delle filosofie e delle ideologie a che cosa la storia ci costringerà come appunto è successo con il Covid e su altri temi e quindi qui la scelta della guida avrà inevitabilmente un impatto anche su poi sulle strategie le strade da intraprendere su come appunto guidare gli stati quindi questa situazione contingente quindi il piano inclinato della storia presumibilmente avrà un impatto anche maggiore degli equilibri poi che usciranno dalle elezioni Ursula von der Leyen tra l'altro lo dicevate poco fa che cos'è che sta pagando che cos'è che rischia di pagare ancora di più proprio il fatto che negli ultimi mesi da un punto di vista politico si è mossa in modo indivago è uscita dal perimetro della sua maggioranza legata ai padri fondatori al filo europeismo stretto quindi legata al partito popolare Weber non l'ha mai amata e la sua stessa area di riferimento di CDU l'ha messa un po' alla porta proprio perché Ursula von der Leyen ha strezzato l'occhio a partiti che sono fuori da quel perimetro da cui arriva un'operazione elettorale per se stessa però e beh un po' troppo in modo un po' troppo spinto in modo un po' troppo spregiudicato in una fase così delicata e così incerta in cui c'è la consapevolezza che potremmo trovarci in una condizione estrema e ovviamente si scongiura l'ipotesi di arrivare alla condizione estrema ma ci si potrebbe trovare questo eccessivo personalismo appunto un divago anche da un punto di vista ideologico guardare all'estrema destra guardare su alleanze e partiti che non appartengono alla sua storia politica rischia davvero di diventare il tema centrale su cui decidere le sorti non di Ursula von der Leyen ma appunto della guida degli stati dell'Unione Ci fermiamo un istante Allora eccoci per parlare per parlare del contrasto fra PD e 5 Stelle ma cerchiamo di volare un pochino più alti rispetto alla lite fra Schlein e Conte ne parleremo parliamo un pochino di più del fenomeno quello che affronta il professor Pasquino nel suo editoriale Oggi sul Domani titolo in prima il voto di scambio infetta l'essenza della politica eccolo qui però io voglio leggere le righe finali spoilerò le conclusioni professore lei scrive un partito che per qualche ansia di ingrandimento di potere forse di sopravvivenza rinuncia a mettere in atto controlli rigorosi su coloro che ne fanno parte e lo utilizzano è il primo responsabile della questione morale della immoralità nell'azione politica la risposta è controllare imporre regole sfoltire e purare da subito il riferimento è naturalmente a questo codice nuovo codice etico che il partito democratico sta varando ricordava la Picerno che il codice c'è da sempre ma teoricamente non ci dovrebbe essere neanche bisogno di un codice etico per i partiti i partiti sono riunioni di cittadini che insieme cercano di cambiare eccetera 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 e dovrebbe essere consustanziale diciamo all'essenza dei partiti il codice etico ma cosa dice cosa dice no purtroppo non è così purtroppo i partiti spesso non sempre la vedo troppo pessimista professore purtroppo non c'è il controllo sugli iscritti alcuni iscritti arrivano con dotazioni di tessere come si dice alcuni con dotazioni di relazioni particolari con alcuni gruppi importanti alcuni con il proprio denaro fra l'altro e fanno carriera per questo perché vengono riconosciuti come portatori attuali o potenziali di voti o di rapporti che possono contare e quindi questo richiede non so anche senza codice richiede che ci sia un'attenzione da parte dei dirigenti a filtrare chi vuole entrare in un partito e non ad accettarlo perché comunque quello porta un sacco di voti quando un partito è debole è permeabile e quando è permeabile è esposta a tutte queste tendenze che possono apparire in città e così lontane da loro come Barri e Torino attenzione non precostituiscono nessun giudizio però da quello che si vede si sente da alcune dimissioni bisogna prendere atto che questo è qualcosa che è successo il Paese Democratico è particolarmente esposto a questo per due ragioni fondamentali la prima è che è un partito potenzialmente spesso di governo e quindi chi vuole avere dei favori delle decisioni utili qualche carica e così via si muove intorno al partito e quando può entra o fa entrare coloro che poi poteranno queste decisioni la seconda ragione è che è una struttura ancora come dire non solidificata come disse memorabilmente Massimo D'Alema che qui cito a proposito è un'amalgama mal riuscito alcuni settori erano più addentrati nella situazione italiana altri meno però non si sono mai in qualche modo messi insieme in maniera produttiva e ancora adesso di tanto in tanto sentiamo che i cattolici vogliono questo che una parte della sinistra vuole quest'altro e così via il partito manca di una solidità strutturale che riguarda anche naturalmente il controllo sui comportamenti questo lo rende permeabile e credo che Ellis Lai non abbia ancora colto il punto fino in fondo mi auguro che lo faccia presto perché altrimenti il rischio è di trovarsi con altre problematiche di questo genere che sono pessime per l'immagine e poi anche per l'azione del partito Giuseppe controcorrente vado adesso i cacicchi i cosiddetti cacicchi i capi bastone con definizioni terribili in realtà sono quei signori che controllano delle preferenze che è una cosa scomparsa nell'Italia del voto politico perché ci sono le liste bloccate è un peccato avere tanti consensi è vero professore lei dice delle cose giuste alcuni di questi hanno clientele alcuni di questi hanno soldi e queste sono le inchieste e le indagini ma avere consenso le relazioni con i gruppi anche hanno relazioni con i gruppi hanno rapporti ma avere consenso Giuseppe è negativo nelle forze politiche è diventato negativo noi ci troviamo intanto in un paradosso lo ha scritto bene Polito ieri sul Corriere della Sera che alle elezioni politiche cioè alle elezioni in cui noi dovremmo per definizione noi abbiamo delle liste bloccate alle europee dove ci sono delle circoscrizioni extra large dove dovrebbero essere pazzesche esatto pensi alla circoscrizione sud al nord est al nord ovest abbiamo invece le preferenze quindi questo è il primo diciamo cortocircuito dopodiché è chiaro che i portatori sani di consenso vengono anche chiamati da qualcuno cioè questi super capibastone o cacicchi una volta si chiamavano signori delle preferenze signori delle preferenze però in certi casi diciamo lì il confine è molto labile cioè tra quello che è il consenso per perché sei una persona che ha una credibilità se autorevole è il portatore di interessi se vogliamo dopodiché io sono convinto che il PD o comunque i partiti politici si siano nutriti di questi si siano salvati in una fase di antipolitica si sono salvati grazie ai portatori ai capibastone e come diceva il professore Pasquino il PD essendo stato per molto tempo al governo nella fase diciamo 2014 2021 cioè sì includiamo anche il secondo governo Conte il governo Draghi è stata diciamo calamita è stato attratto diversi diciamo capibastone sono stati attratti da quel tipo di partito che si è erto quasi a partito Stato partito Cuscinetto partito Diga dopodiché nel caso del PD ci sono situazioni assurde io penso alla mia Sicilia che è stata nella fase di massima del crocettismo che da Stefano Cappellini è stato annoverato come un cacicco in quella fase il PD ha fatto una sorta di raccolta indifferenziata non a caso tanti cacicchi capibastone che in quella fase si erano avvigionati al PD oggi dove sono oggi stanno nel centrodestra e stanno con Giorgio Meloni e Mattio Salvini più con Giorgio Meloni in questa fase perché Giorgio Meloni è il partito di maggioranza ed è il partito che può diciamo aiutarti di più se vogliamo arrivo Janina volevo chiedere una cosa ad Agnese Agnese qualche anno fa noi votammo un referendum che fece storia che era quello per l'abolizione della preferenza e perché la preferenza era considerata inquinante proprio perché vivevamo questo tipo di problemi oggi però viviamo il problema opposto cioè tutti i parlamentari che noi mandiamo in Parlamento vengono eletti su liste bloccate cioè i cittadini non hanno più il controllo degli eletti e torna forte un movimento che dice che il male assoluto di ieri la preferenza in realtà è indispensabile per ridare vitalità a un sistema bloccato dalle segretarie dei partiti che è quello degli eletti in Parlamento chi ha ragione? Hanno torto entrambi in realtà perché è chiaro che è chiaro che nessuno dei due sistemi è il male assunto è come lo interpreti e noi l'abbiamo interpretato male cioè il referendum si basava su un presupposto sacro santo giusto all'epoca è l'esito che è stato sbagliato perché che cosa è successo? Che noi abbiamo tolto le preferenze col nobile scopo di disinnescare un meccanismo che è il più becero della politica democratica quindi quello di rendere il voto un mercimonio basato su interessi del cui è ora spesso talvolta anche non leciti tra l'altro la lingua italiana è stupenda noi diciamo capobastone capobastone è un termine che si usa nella criminalità organizzata per l'andrangheta è il capo dell'andrina e cos'è che ci indica l'uso del capobastone il fatto che noi manteniamo un sistema di potere che può essere alimentato dal voto di scambio quindi dal ti do il mio voto in cambio mi dai oppure può essere alimentato da altri schemi allora che cosa è successo noi abbiamo eliminato le preferenze quindi abbiamo eliminato il livello più evidente più becero ti do una cosa me ne dai in cambio un'altra tra politico ed elettore ma non abbiamo disinnescato il sistema di potere dentro il partito che è diventato ancora più fortino ancora più chiuso disinteressato magari rispetto appunto a quello che potevo dare nell'immediato al piccolo elettore in questo modo io ho tolto il legame col territorio sia quello buono sia quello cattivo quindi entrambi ma non ho disinnescato quel sistema di potere che assomiglia a quello malavitoso tanto è vero che noi diciamo capobastone non a caso perché ci ricorda quel sistema di potere lì malato e questo ha impoverito i partiti ma c'è un punto di equilibrio fra le due strade tutte preferenze zero preferenze allora il punto di equilibrio in realtà passa da un termine abusato anche negli ultimi giorni che è quello della questione morale che è un tema bellissimo due parole bellissime la questione morale ma completamente vuote che cosa abbiamo visto in queste ore in questi giorni abbiamo visto agitare la questione morale da leader di partiti importanti da leader importanti di partiti importanti per non fare nomi Conte ma un po' anche Elislein ma su questioni che chiaramente hanno solo un tornaconto tattico elettorale cioè il Conte che si sfila a Bari dalle primarie è un tornaconto tattico per mantenersi un po' di zoccolo duro di consenso del suo del suo partito dov'è la questione morale allora in realtà hanno ragione anche qui hanno tutti hanno tutti ragione da un problema di questo tipo tu ne esci quando interpreti la politica in maniera etica e che noi facciamo una grande fatica e quindi il tentativo buono di quel referendum era spinto da un grande ideale quello per cui avremmo disinnescato avremmo portato la questione morale in politica semplicemente togliendo il rapporto tra politico e direttore si è trasformato in un grande blef perché noi non siamo cambiati Ianina volevo collegare prima al discorso diciamo che quando c'è stato il suo discorso di insediamento dell'ashline nel marzo del 2023 alla parte finale disse proprio fuori i capibastoni i cacicchi quindi era già un messaggio del riferimento di Conte di queste ore assolutamente quindi insomma teniamoci e poi ricollegandomi a quanto stava dicendo Agnese Pini invece cacicchi non so se tutti lo sanno è un termine che deriva dai erano i conquistadoras nel 1500 che arrivavano e incontrava gli indigeni e li chiamavano così perché avevano poi la capacità di accoppiarsi con tante donne da cui preso un nome il pappagallo il cacicco che è un pappagallo che nel corso della sua vita continua a cambiare continuamente donna quindi insomma una nota di colore professore mi rivolgo a lei come erano risolto nel resto dell'Europa ad esempio questa cosa posso fare un piccolo riferimento al sistema al tema delle preferenze che avete accennato questo è il tema il referendum che si tenne il 9 giugno del 1991 c'era una volta Mario Segni si eravamo tutti più giovani però se me lo ricordo molto bene partecipai anche a quel movimento referendario era un referendum volto a escludere la multi a cancellare la multi preferenza lasciando una sola preferenza adesso siamo arrivati a perversioni uomo donna ecco ma qual era il senso profondo di quel quesito era il controllo della scheda cioè quel sistema delle multi preferenze favoriva il controllo della scheda da parte di chi appunto di quelli che manovrano ora il tema poi incredibilmente se andiamo a vedere alcune di queste intercettazioni che sono uscite è che ha 30 cosa sono 33 anni di distanza in altro ambiente ad altro livello politico ad altro livello elettorale però siamo ancora lì cioè il controllo della scheda perché io il voto di scambio su cosa si basa su questo sul controllo ti do i soldi se dopo o quello che è se trovo nella sezione elettorale accade nelle elezioni del presidente della repubblica quando scrivono quando scrivono Sergio Mattarella Giorgio Napolitano Mattarella S esatto e non è un bel vedere neanche lì assolutamente ma qui la cosa è peggiore perché stiamo parlando anche di allora il problema è appunto la qualità della democrazia no? qual è c'è il punto di equilibrio? sì allora il punto di equilibrio è tornare lei mi diceva in Europa come hanno risolto ovvio che non hanno risolto nel senso che in tutti i sistemi politici ci sono problemi di questo tipo ma il problema è la quantità no? c'è un certo livello di ovviamente allora come si risolve o mitiga il problema in altri partiti beh più i partiti sono solidi e più normalmente non che non hanno problemi di questo tipo ma il più delle volte non sempre ma il più delle volte riescono a porre rimedio loro stessi senza bisogno dell'intervento gli anticorpi gli anticorpi interni che fanno sì che perché questa è la funzione essenziale dei partiti no? quella di fare da collettore e selezionare la classe dirigente tu non puoi dire ah io non so chi ho dentro cioè perché viene meno l'essenza di essere un partito mi fa fare una domanda al professor professor Pasquino ma ci sono ancora i partiti? cioè sembra paradossale quello che sto dicendo ma i partiti esistono ancora come aggregazione di gruppi intorno a persone che io non chiamerei mai Capigvastone non chiamerei mai Cacichi sono persone che spesso hanno autorevolezza hanno dimostrato capacità politiche hanno amicizie hanno capacità di relazioni e così via vorrei però ricordare che non abbiamo abolito le preferenze il referendum del 91 era il referendum sulla preferenza unica per di più non da scrivere con il numero che poteva essere manipolato dagli scrittatori scrivo uno il scrittatore aggiunge quattro davanti o dietro 41 14 ma scrivere con il nome e cognome non era per controllare la scheda era per impedire le cordate quattro candidati che si scambiavano le preferenze tra di loro però la politica ha perfezionato il sistema il maggioritario ha portato tante deviazioni e ora ci sono liste bloccate è oggettivo attenzione attenzione che in Europa metà paesi hanno un sistema con preferenze metà paesi hanno altri sistemi però almeno due di loro se consideriamo ancora la Gran Bretagna e Europa hanno collegioni nominali nei quali non c'è bisogno di preferenze l'altro è la Francia naturalmente nei quali sono le persone e quindi lì si riduce drasticamente la possibilità di manipolare il voto di preferenza cioè la situazione è molto più complicata di quella che possa sembrare non c'è una soluzione miracolosa però certamente ci sono diverse soluzioni di controllo delle candidature le primarie dovevano servire appunto per escegliere le candidature non ad opera dei capi bastoni cacichi ma ad opera degli stessi elettori sospese a tempo indeterminato però come? sospese a tempo indeterminato mi par di vedere però non deve dirlo a me no 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 consideravo nel dibattito va bene come vedete ci sarebbe ancora tanto da parlare qui io ringrazio i miei ospiti arriva Coffee Break con Andrea Pancani l'appuntamento con Omnibus come sempre domani mattina alle 8 vi aspetto grazie e buon proseguimento di giornata per la visione di oggi e buon proseguimento di giornata con Omnibus e buon proseguimento di giornata